Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Volevo oggi parlarvi del motivo per cui non ho mai più fatto live da ben più di 10 o 15 giorni. Non so bene quando uscirà questo video ma penso che dopo averlo registrato pubblicherò subito, ovviamente prima editandolo. Volevo parlare del fatto del perché io non abbia fatto live per un buon periodo. Prima cosa ci tengo a dire che comunque sono impegnato con la scuola quindi se ci saranno periodi vuoti come lo è stato questo non dovete pensare che io sia sparito. Anche con i video perché non ho più avuto il tempo di crearne. Infatti sono usciti due o tre shorts e un video solo di un hardcore ma soltanto perché c'erano le vacanze di Pasqua. Se no non ne avevo il tempo. Comunque se ci tenete a venirmi a seguire sul sito Viola che vi lascio in descrizione, lì da stasera cercherò di fare delle live regolarmente. Possibilmente nei weekend quindi il venerdì sera e il sabato sera verso le 20 e 30. Come orario mi sembra comodo. Già stasera saremo in live sembra le 20 e 30 quindi vi aspetto. Non so che cosa faremo però di sicuro ci divertiremo. In ogni caso vi lascio il link qua sotto in descrizione. Spero di divertirmi con voi e spero veniate in tanti. Comunque vi dirò già subito che per i video pian piano riprenderò regolarmente. Per le live su YouTube non penso ne farò altre. Nel senso che se sono in live su Twitch ovviamente dovrò decidere di tenere una piattaforma sola e quindi penso di essere definitivamente andato lì. Potrei ancora spostarmi in caso ve lo farò sapere. Però sappiate che se volete venirmi a cercare in live dovete andare sul sito Viola. Niente io ci tenevo a farvi sapere questa piccola cosa. Come vi ho già detto prima vi aspetto alle 20 e 30 su Twitch. Ci vediamo presto. Un faluto anche da Marti Fento 4. Fì fai ve lo chiedete e fì farò anche io fta fera in live ragazzi vi affetto. Grazie.